Benessere a scuola al tempo del Covid-19, questa l'interessante iniziativa organizzata dall'alberghiero De Cecco di Pescara, professoressa Di Pietro. Benessere a scuola in questo periodo non è semplice, non è facile, ma voi ci provate. Il tema del benessere, in senso proprio come nell'ottica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, benessere biopsicosociale, adesso è diventato il grande tema che la scuola deve affrontare. Noi stiamo vivendo una situazione di grandissima emergenza straordinaria, mai vista prima. In questa fase i climi, l'organizzazione della scuola e le regole sono tutti orientati a combattere il virus. Però è molto importante adesso ricostruire un bel ambiente, un sano ambiente di relazioni autentiche, affettive, emotive e quindi creare condizioni di benessere in senso lato per i nostri studenti. Per questo noi abbiamo elaborato una serie di progetti che hanno portato alla Costituzione di ben cinque sportelli che devono svolgere la funzione di supporto psicologico, non soltanto agli studenti che comunque vivono una situazione di difficoltà perché anche di limitazione della loro libertà e hanno vissuto un periodo grave di chiusura relazionale, ma anche rivolto ai docenti, al personale scolastico e alle famiglie. Oggi tutto il sistema della scuola vive un momento di grande criticità e complessità perché c'è un'assunzione enorme di responsabilità, ci sono tante problematiche che vanno affrontate e quindi il sostegno psicologico diventa importante. Così come diventa fondamentale il contatto continuo con gli operatori dell'ASL e oggi sarà qui con noi il virologo Paolo Fazzi, ma ci saranno anche altri esponenti dell'ASL e il tema che dovremo affrontare è proprio questo, il diritto alla salute dei nostri ragazzi che è compito della scuola ma insieme al diritto allo studio e alla socializzazione.